ciao a tutti allora oggi facciamo un esperimento diverso dal solito oggi non usiamo la resina ma utilizziamo la gomma siliconica come possiamo venire qui cosa ho detto non lo so però vabbè allora io qui davanti una un barattola house di plastica house lo leviamo un attimo perché perché se vi ricordate tipo la mia prima creazione cristallo mi sembra di averla fatta con questa questa forma che avevamo fatto insieme nel video solamente che mi viene davvero scomodo non avere la base sotto perché veramente cioè cercare un posto cercare di farla incollare poi magari la resina sbor così mi vengono proprio mi viene voglia di non utilizzarla infatti questa non praticamente utilizzata più magari tipo una volta però poi mi viene proprio la non mi va non mi va non mi va quindi ho pensato perché non provare a creargli anche lo stampo sotto lo stampo sulla base quindi tutto attaccato però io non so se funzionerà nel senso essendo che sono due gomme siliconiche diverse non so se si attaccheranno quindi è proprio un esperimento e volevo anche provare su quello grosso però detto dato che mi è rimasta solo questa gomma siliconica e poi l'ho finita questa qua è l'ultima non so neanche se sarà abbastanza però proviamo a fare quello piccolo che quello grosso poi magari se non va questa situ questa situation ne proverò un'altra praticamente ho trovato questo che questo si adagia perfettamente ok poi ovviamente ci sarà qualcosa che esce però non ne avevo una perfetta guardate più di così non posso farci niente che cosa cosa devo fare in poche parole in poche parole devo andare a versare la gomma siliconica qui dentro e poi ci devo andare a mettere questo e farlo aderire per cercare di incollarlo se capito vabbè comunque adesso io devo andare a mettere la mia gomma siliconica praticamente la fine della gomma siliconica dentro qui è l'ultima che ho quindi se la consumo così allora non so se farà mi sa che verrà molto sottile per il fatto che ne avevo davvero poca questo tipo 100 grammi o del genere però volevo c'è mi è venuta in mente proviamo proviamo così vediamo cosa succede vado proprio a prendere tutto perché come si sa che mi servirà è vera molto sottile sì 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 però non so se si sta capendo qualcosa perché quando c'è il bianco sul bianco sul bianco a non vado nemmeno a colorare la gomma siliconica perché sinceramente non mi interessa averla colorata la lascio bianca carina carruzza adesso si deve fare le unghie al gattaccio giusto momento allora questo più in più che raschiarlo così non è che so che cavolo fare bene adesso questo lo appoggio un attimo qui questo lo buttiamo e andiamo a muovere la gomma bene che si adagi dappertutto poi poi vediamo è in alcuni punti ma perché mi sa che questo tavolo dove sto usando non è molto dritto a volte cioè c'è una parte dritta e una parte non dritta io sono nella parte dritta ok infatti è molto sottile cioè verrà veramente un foglio verrà veramente un foglio però dato che comunque è un esperimento come si dice sono sempre in tempo al massimo nel caso esce che ha comunque ad aggiungere altra gomma in teoria sì adesso sono un po di bollaus voglio che sia un po dritto ok adesso faccio un po scopi alle bolle prima di aggiungere questa così poi è meglio ok siamo qui per questo facciamolo mettiamo fuoco ho cercato di alzare il più possibile il telefono visuale ma c'è è su cosa io uso un barattolo per mettere il telefono quindi non è che posso fare chissà che cosa ok ci sono e ovviamente si è zozzato dove non doveva zozzarsi è fuori e sapete cos'è che succede essendo che non è perfettamente perfetto ci sarà un botto di gomma siliconica che non mi servirà un tubo però ah ma è quello che frega di più è che deve incollarsi che appunto poi io sperate che aiuto ah qua c'è dello zozzeria non mi piace vedete qui è tutta gomma che poi non me ne faccio un tubo però vabbè ho usato 50 volte niente adesso io devo aspettare semplicemente che questa gomma siliconica si asciughi e poi andiamo a levarla dalla scatola di plastica e vediamo se si stacca la gomma dalla gomma o se resta attaccata questa anche zozzata questo è l'esperimento di oggi incrociamo le dita incrociamo le dita ok allora sono passate 24 ore più o meno e che comunque il giorno dopo questa gomma aiuto questa gomma siliconica asciuga in 6 ore ma l'ho lasciata comunque 24 ore e adesso devo provare a levarla senza spaccare tutto perché non so se tirando da qui mi sono complicata un po' le cose tipo e se tiro no oddio ok aspettate qualcosa è successo ok ok ce l'ho ce l'ho più o meno si ce l'ho ok ce l'ho perfetto è uscito è uscito allora ecco qui lo stampo allora devo dire che qua sui lati andiamo a scommettere a forza se si limpia di peli qua sui lati è più alto ok come se si nota e invece qui la situazione è più più bassa situazione più bassa allora non è perfetto perfetto lo so beh qua dietro non mi interessa è tipo non so se si ecco si vedete un po' così quindi io effettivamente non so quando io tirerò fuori beh che a me comunque interessa poco tipo ok aspettate allora a me sembra che abbia aderito non voglio tirare troppo perché non voglio spaccare niente però mi sembra che tipo cioè abbia funzionato la situazione io non ho mai non mi sembra di aver mai fatto una roba del genere quindi mischiare due gomme siliconiche cioè ho mischiato due resine diverse ma due gomme siliconiche no non mi sembra però mi sembra abbast... cioè non è molto sottile quindi ottimo niente quindi per il momento direi che l'esperimento è riuscito dietro è orribile perché comunque c'era comunque il barattolo non so cosa aspettate cioè non vorrei avere grossi aspettative quando poi metto dentro quando poi lo proverò e però però incrociamo le dita non sembra qua la l'eccesso lo lascio cioè non mi interessa andare a ritagliare anche perché farei solamente danno dritto sta dritto stampo sembra uno stampo e nulla momento pubblicità vi ricordo che le creazioni le mie creazioni le trovate in vendita sul mio shop Etsy per appunto chi volesse supportarmi e per chi piacessero le mie creazioni yes molto bene torniamo noi niente devo dire che sono molto soddisfatta per il momento ma non dico troppo perché non l'ho ancora provato lo andremo a provare in un altro video e non so quando uscirà cioè nel senso datemi il tempo di farlo e e niente allora comunque fatemi un po' sapere secondo voi se voi avete già provato a fare una roba del genere cioè spoileratemi un po' nei commenti se secondo secondo voi uscirà bene o no e non so datemi i vostri pareri mi servono dei pareri cioè tipo qua c'è la della gomma siliconica attaccata e si è staccata cioè un pezzettino così vedete e si è staccata più questo non mi fa molto piacere però niente allora mi raccomando fatemi un po' secondo voi le vostre impressioni cosa sto dicendo fatemi sapere un po' le vostre impressioni secondo voi com'è la situation e e niente non vedo l'ora di provarlo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao